Grazie, come ti chiami? Alex, lei come si chiama? No, lei non me lo dare perché sono vecchi, mi fa sentire vecchi, come ti chiami? Giovanni, Giovanni, Giovanni Tirazione di via 7.4 con una ruota per la pista 0. Allora, stiamo a chiudere un po' di poche. Allora, avviciniamo, facciamo il motore, sentiamo il sole in pace, goditi il volo, le foto, quanto basta, però goditi il volo, perfetto, perché parecchissimo, parano le foto e non hanno... Non si godono, zero proprio, la gente che si mette al telefono dice, no, sono in volo, di gara qui, giovani, giovanissimi, che non si godono per niente il volo, che stanno parlando al telefono. Faccio giusto il video del decollo e poi dopo mi tolo tutto al volo. La temperatura ce l'abbiamo, questo ce l'abbiamo, la temperatura al solito. Giresone, il via 7.4 si allinea e decolla per la 0.3. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.